Verbania, l'uomo sparito sabato sera di cui non si avevano più notizie è stato trovato provi di vita in Alta Valle d'Ossola, sulle alture di Ornavasso. Attilio Scalabrini, di 47 anni sembra che sia scivolato lungo il sentiero, che porta alla baita di famiglia all'Alpebac. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina da parte del soccorso alpino.